Musica Benvenuti al consueto riepilogo dei principali fatti della settimana che si è appena conclusa. Iniziamo con lunedì 24 aprile. Forza Italia cresce ed è ancora attrattiva. Possibili nuovi arrivi, a dire il Presidente della Regione, Renato Schifani, dopo l'ingresso di Giancarlo Cancelleri nel partito. L'ingresso di Giancarlo Cancelleri in Forza Italia credo sia un segnale forte e persuasivo per tutti i politici che non si riconoscono più nella loro precedente collocazione e che si identificano nei valori che ci caratterizzano. Non escludo altri arrivi. Lo dice in un'intervista al giornale il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani. Per l'ex Presidente del Senato, gran parte dell'elettorato moderato che ha investito consensi in forze come il terzo polo, ora guarda Forza Italia per la coerenza alle sue scelte. Siamo attrattivi anche per i moderati che hanno visto l'appiattimento del PD a sinistra con la nuova segretaria ed ex pentastellati che non si riconoscono nell'estremismo barricadero del movimento. In merito alla convention che si è svolta sabato a Palermo, l'ultima volta che abbiamo visto una folla così è stato quando è venuto Berlusconi per le politiche regionali del 2018, spiega Schifani. C'è la grande possibilità che dalla Sicilia parta la sfida aggregante di Forza Italia e questa grande iniziativa mostra anche i risultati del cambio di guardia regionale. Per il Governatore il nuovo corso del partito nell'isola con il coordinatore Marcello Caruso è un cambiamento che consente da un lato di misurarsi sui problemi dei siciliani e dall'altro di seguire una linea per turista di dialogo con chi si ritrova senza casa. Forza Italia unisce al centro-destra e nei quattro comuni dove si vota prossimamente la coalizione Corriunita e sul suo impegno da Presidente della Regione sottolina non sono andato a svernare nella mia terra ma a misurarmi con le sfide del territorio perché mai accetterò che la Sicilia sia una Regione di serie B. Esercito quest'anno a Palermo il raduno nazionale del centesimo corso allievi ufficiali di complemento, un'occasione per rinnovare il loro giuramento all'Italia e al loro santo patrono San Giorgio ed onorare le vittime di mafia. Stamattina piazza 13 vittime a Palermo per il raduno del centesimo corso allievi ufficiali di complemento dell'esercito. Questo raduno che si svolge in diverse città d'Italia, quest'anno è stata scelta a Palermo e si sono volute ricordare le vittime di mafia partendo da un evento con il generale Carlo Alberto Dallachiesa per terminare oggi. Hanno voluto i ragazzi del centesimo corso allievi ufficiali di complemento partire dal ricordo del generale della Chiesa, generale dell'esercito e generale dei carabinieri morto per mafia e chiudere oggi l'evento in questa piazza per chiudere il ciclo del ricordo istituzionale alle vittime del dovere. Abbiamo commemorato i caduti presso la brigata carabinieri e ogni anno loro come altri corsi allievi ufficiali si incontrano in diverse parti d'Italia. È il tessuto tra civili e militari che si continua a mantenere unito nel ricordo di chi ci ha preceduto e ha dato anche la vita perché noi possiamo vivere liberi e tranquilli in questo paese. Lei è presidente del Comitato Nazionale 4 novembre e adesso ha scritto un libro perché ha fatto un viaggio da Bolzano fino a Portopalo con il tricolore. Perché? Ecco il mio viaggio da Bolzano fino a Sicilia a piedi attraversando tutta l'Italia in linea retta perché quei fanti di allora, fanti, marinai, aviatori anche se all'epoca erano battaglioni dell'esercito che andavano sugli aerei, quegli uomini erano di tutti e quanti i nostri comuni, tutte e quanti le regioni e dovessero imparare a conoscersi, a fratellarsi ma sicuramente a farsi capire gli uni con gli altri. Era difficile per il fanta siciliano di Portopalo che non aveva fatto probabilmente 70 km per arrivare a Siracusa e è andato a morire invece a 1750 km suoi confini. Dovevano parlare una sola lingua e quindi anche la lingua italiana si è fatta in trincea. Ecco i motivi del mio viaggio. Io faccio parte di questo corso che vedete alle mie spalle, il centesimo corso C che mi ha sostenuto con tutte le loro forze in questa avventura che è stata mia ma è stata tutti quanti noi. Siamo un gruppo unito, siamo un gruppo coeso che da 43 anni non si perde, si ritrova sempre in momenti importanti. Siamo stati tre giorni a Palermo, siamo stati in una grande città, abbiamo onorato i caduti di guerra ma abbiamo onorato i caduti di mafia. Un'Italia che ha bisogno di trovare nuovamente la coesione nazionale e questa coesione può avvenire solo e soltanto attraverso un ricordo, un ricordo che unisca veramente tutti al di sopra delle parti politiche, al di sopra delle parti religiose che è questa festa di unità nazionale il 4 novembre. Questa è la festa che ci deve unire a noi come italiani, come cittadini, come soldati. Martedì 25 aprile Cefalù ha partecipato alla giornata mondiale della Terra coinvolgendo gli alunni di tutte le scuole con iniziativa a favore della salvaguardia del pianeta. Noi lavoriamo da sempre sulla preparazione dei giovani al futuro, naturalmente in vista della sostenibilità e per salvaguardare il pianeta Terra, cerchiamo di partire dalle piccole cose come l'importanza della raccolta differenziata già all'interno della scuola, l'importanza della raccolta differenziata all'interno della famiglia e poi cerchiamo di formare al non spreco che va dal cibo ma anche ai beni di seconda necessità. I nostri giovani penso che si stanno già sensibilizzando parecchio per quanto riguarda la salvaguardia del pianeta e soprattutto per salvaguardare il loro futuro. Una bellissima manifestazione, un'esplosione di gioia, questo magnifico scenario che è il turniare del Duomo di Cefalù. Abbiamo coinvolto, grazie soprattutto alla collaborazione dell'Istituto Comprensivo Nicola Botta, di tutte le docenti che si sono veramente impegnate per sensibilizzare i bambini alla partecipazione attiva a questa importante manifestazione che fa passare e riprende un messaggio che deve essere negamente di ciascuno di noi ogni giorno. La terra è la nostra grande madre, dobbiamo custodirla, dobbiamo amarla, dobbiamo rispettarla. Abbiamo la possibilità oggi con le tecnologie che ci sono di fare davvero dello sviluppo sostenibile un nuovo modo di vivere il pianeta e ognuno deve fare la sua parte, dai piccoli centri come può essere Cefalù fino alle grandi realtà metropolitane del pianeta. Bene, questa tartaruga finalmente è tornata a mare, è tornata nel suo abitato naturale, è un soggetto che è stato recuperato il 19 novembre ultimo scorso, con noi per fortuna è stata pochissima, aveva un amo e una lenza, è stata operata ed è stata riabilitata finalmente per questa reimmissione veloce, per fortuna per evitare proprio che il soggetto si addomestichi nelle vasche di degenza, nelle vasche di stabulazione presso il centro recupero all'istituto zooprofilattico. I ragazzi del progetto Ricomincio da me di Asti sono scelsi in campo per il primo quadrangolare della stagione. 16 adolescenti guariti al cancro, divisi in due squadre, hanno partecipato a Partinico al Memorial. Antonio Rumore, un uomo di 47 anni morto per una neoplasia cerebrale il 16 gennaio del 2022. I ragazzi del progetto Ricomincio da me scendono in campo per ricordare Antonio, mio marito, e per contribuire a sensibilizzare e supportare quindi l'aslti dell'oncoematologia pediatrica del civico di Palermo. Antonio era conosciuto veramente da tante persone, conosciuto e apprezzato, quindi vorremmo sensibilizzare attraverso lui tutte quelle persone che non hanno conosciuto, grazie a Dio, la malattia oncologica, ma che possono in ogni caso contribuire a sostenere le associazioni che supportano i bambini ricoverati e le loro famiglie. Il ricordo di mio padre, come penso abbiano detto già tutti i suoi amici, e anche mia mamma era una persona abbastanza speciale, aveva la passione appunto per il calcio e appunto per questo abbiamo deciso di prendere questa iniziativa. Il progetto Ricomincio da me continua ad essere attivo e coinvolgendo i ragazzi guariti da leucemia e da tumore. Sta avendo un grandissimo successo tra i bambini e i ragazzi più adolescenti, naturalmente il calcio che comunque la fa da padrona. Abbiamo inserito anche l'attività di canottaggio, dove l'istruttore è anche un ragazzo guarito da una leucemia quando era bambino. Il canottaggio pure sta riscuotendo un grande successo, anche perché appunto Leonardo Vasile, che è il loro istruttore, porterà questi ragazzi anche alle gare prossimamente a Varese. I prossimi appuntamenti sono in previsione il giro sulle Ferrari, che è una cosa anche molto bella, che piace molto ai nostri ragazzi. È tutta una serie di iniziative che poi andremo a svolgere da qui ai prossimi mesi, compresi i campus estivi per i ragazzi che appunto stanno facendo la scuola calcio. Frequenteranno due campus estivi, uno a Catania e uno a Terrasina nel periodo estivo. Un memorial importante, intanto perché attraverso lo sport verrà ricordato questo ragazzo dal cuore d'oro come gli amici l'hanno identificato. Ma avrà un aspetto ancora più importante perché il ricavato di questo quadrangolare sarà devoluto all'Aslity, di cui io sono presidente e sono onorata di farne parte. È un evento importante perché il dolore incontro alla solidarietà, quindi la trasformazione proprio del dolore, del dolore di questa moglie, che comunque negli anni è stata sostenitrice dell'Aslity perché appunto ha sempre creduto nei nostri progetti e oggi vuole concretizzare ancora di più questo sostegno. Mercoledì 26 aprile tutta la scuola palermitana di ogni ordine e grado e di tutti i quartieri si stringe attorno all'istituto Giovanni Falcone. Una delegazione di dirigenti scolastici degli istituti aderenti alla rete per la promozione della cultura antimafia nella scuola ha incontrato le famiglie degli alunni. Dopo l'arresto della dirigente scolastica della scuola Falcone dello Zen di Palermo, una delegazione di dirigenti scolastici degli istituti aderenti alla rete per la promozione della cultura antimafia nella scuola ha incontrato oggi le famiglie degli alunni assieme al direttore dell'ufficio scolastico regionale Giuseppe Pierro e del dirigente scolastico Domenico Di Fatta. Presente è anche il sindaco Roberto Lagalla. Si è trattato di un gesto di solidarietà e di vicinanza alla comunità educante oltre che di sostegno e di fatta per il suo difficile lavoro. La delegazione ha voluto dare il messaggio forte. Tutta la scuola palermitana, di ogni ordine e grado e di tutti i quartieri, si stringe attorno all'istituto Giovanni Falcone. Un messaggio simbolico e nello stesso tempo molto concreto. Sì, abbiamo chiesto e ho nominato un gruppo di esperti che faranno un lavoro con gli insegnanti, ma soprattutto con le famiglie e anche con i ragazzi, perché occorre che gli si diano gli strumenti per capire anche quello che è accaduto. Aspettando che la magistratura completi il suo lavoro, alcune immagini in effetti non sono propriamente belle da vedersi. Bisogna fare capire ai genitori che quel comportamento è il comportamento di un singolo, di una singola persona, ma gli altri dirigenti scolastici, il personale della scuola, gli altri docenti non sono così e quindi bisogna continuare con lo stesso spirito di fiducia di prima. La scuola, le istituzioni vanno al di là delle persone e restano nel tempo. Il messaggio educativo continua, l'impegno delle istituzioni prosegue, le eventuali responsabilità delle persone sono da accertarsi in altri luoghi, in altri sedi. Bene ha fatto l'amministrazione dell'istruzione a provvedere immediatamente a una sostituzione per rilanciare ancora una volta tutti insieme nel segno della solidarietà, come è sempre avvenuto da parte delle istituzioni in questa scuola per rilanciare quel messaggio educativo e quell'esempio che serve al quartiere, ma che serve alla comunità. Da uomo di scuola, cosa suscitano in lei queste intercettazioni che stanno venendo a Gala? Ma guardi, io ho già detto sì dal primo momento e non ho cambiato opinione. Sono sgomento per ciò che viene in questo momento proposto e messo sul tavolo. Io mi auguro che alla fine, non so come e non so quando, diciamo probabilmente possa essere dimostrato nell'interesse della scuola, nell'interesse dei messaggi formativi, che abbiamo fatto solo un brutto sogno, perché personalmente da assessore all'istruzione e poi da sindaco ho sempre ritenuto che questa scuola fosse ed è e continua a essere un avamposto che merita ogni generosità, ogni dedizione e ogni impegno. non ammette il tradimento, neanche il più piccolo e il più insignificante. Ipotizzata frode in materia di bonus edilizi, la Guardia di Finanza di Palermo ha eseguito un provvedimento di sequestro di crediti fittizi, investimenti in criptovalute e oro per circa 8 milioni di euro. Bonus edilizi investiti in criptovalute. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo d'urgenza emesso dalla Procura e convalidato dal GIP per un valore complessivo di circa 8 milioni di euro. Le indagini condotte dagli investigatori del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria nascono da un'attività sulle misure agevolative previste per gli interventi edilizi sotto forma di crediti di imposta cedibili a terzi e utilizzabili in compensazione di debiti tributari o monetizzabili presso banche intermediari finanziari. Sono indagate a vario titolo se persone per emissione di fatture false o messa a presentazione della dichiarazione dei redditi, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ed autoriciclaggio. Nel corso delle indagini sono state individuate due società di capitali del settore edile con sede a Palermo che secondo i finanzieri non avrebbero avuto strutture e mezzi idonei per la realizzazione degli interventi edilizi oggetto di bonus. Una era stata costituita durante il periodo della pandemia. Le società avrebbero emesso fatture false relative ad interventi di riqualificazione edilizia in realtà mai eseguiti per maturare indebitamente crediti connessi al bonus facciate, per cui è prevista la detrazione delle spese del 90%, all'eco bonus per cui è prevista la detrazione delle spese del 65%, al bonus recupero patrimonio edilizio per cui è prevista la detrazione delle spese del 50%. I titolari delle attività attraverso false fatturazioni avrebbero conseguito fittizi crediti d'imposta per oltre 6 milioni di euro, crediti che attraverso l'opzione dello sconto in fattura previsto dal decreto rilancio sono stati ceduti alle due società che in parte li hanno monetizzati, cedendoli a intermediari finanziari o ad altre persone giuridiche. Una quota dei profitti per un importo di oltre un milione di euro è stata poi reinvestita al principale indagato per effettuare investimenti in oro e in criptovalute detenute su diverse piattaforme online. Giovedì 27 aprile Caterina Chinnici pronta a lasciare il PD per approdare in Forza Italia europarlamentare appena sette mesi fa era la candidata del Partito Democratico alla presidenza della regione siciliana contro Renato Schifani, esponente proprio di Forza Italia. Caterina Chinnici pronta a lasciare il PD per approdare in Forza Italia. Dopo l'addio del senatore Borghi, anche in Sicilia il Partito Democratico di Elislein perde un altro pezzo importante. Europarlamentare del PD per due legislature ed ex magistrata Caterina, figlia di Rocco Chinnici, magistrato, inventore del pull antimafia ucciso da Cosa Nostra, appena sette mesi fa era la candidata del Partito Democratico alla presidenza della regione siciliana contro Renato Schifani, esponente proprio di Forza Italia. L'indiscrezione che per tutto il giorno ieri è rimbalzata nelle redazioni è stata confermata in serata dai vari big del Partito Democratico, tra cui il segretario Anthony Barbagallo, che a caldo ha dichiarato. Non ne sappiamo nulla, ma certo risulterebbe alquanto stupefacente che dopo aver accettato la candidatura alla presidenza della regione in quota PD lo scorso luglio e avere preteso che tra i candidati non ci fossero imputati, adesso Caterina Chinnici possa passare a Forza Italia il partito di Berlusconi, Dell'Utri e Dalì. Intanto nei corridoi palermitani che contano si apprende che il garante dell'operazione che ha portato l'europarlamentare PD in Forza Italia sarebbe proprio il suo ex sfidante Renato Schifani. Se così fosse, il presidente avrebbe portato a casa un risultato di tutto il rispetto, considerato che nonostante i risultati elettorali modesti della scorsa tornata elettorale, dove la Chinnici è arrivata solo terza con il 16% di preferenze, il prestigio bipartisan di cui gode l'ex magistrata da anni ne fanno un acquisto pregiato per il nuovo corso di Forza Italia. Dal canto suo la diretta interessata, raggiunta al telefono, non ha voluto rilasciare dichiarazioni. L'ufficialità dovrebbe arrivare il 5 e 6 maggio alla Convention di Forza Italia a Milano. Un altro risultato dunque per gli azzurri che appena qualche giorno fa festeggiavano a Palermo un altro approdo a dir poco stupefacente, quello di Giancarlo Cancelleri, ex deputato siciliano del Movimento 5 Stelle, anche lui transitato nel partito di Berlusconi. Intanto c'è attesa per la visita della leader PD Schlein, che il prossimo 30 aprile sarà a Palermo per la commemorazione di Piola Torre e dovrà spiegare il perché un'altra vittima di mafia abbia scelto di lasciare il suo partito. Chi vivrà vedrà intanto a Roma Matteo Renzi e Gongola. Egli sposterà il PD su una posizione massimalista, se non lo fa perde la sua identità. Perciò, assicura il leader di Italia Viva, ci saranno altri addi. Precari Covid, la regione avvia il percorso per le stabilizzazioni, una direttiva firmata dall'assessore alla salute, concede agli enti e alle aziende un periodo fino a 30 giorni per aggiornare i propri piani del fabbisogno e individuare i posti vacanti. Iniziato il percorso per le stabilizzazioni del personale Covid nel servizio sanitario regionale, una direttiva firmata dall'assessore alla salute, dopo l'intesa dello scorso 31 marzo tra la regione e le organizzazioni sindacali, concede agli enti e alle aziende siciliane un periodo fino a 30 giorni, a partire da oggi, per aggiornare i propri piani del fabbisogno e individuare i posti vacanti da destinare nel rispetto del limite del 50% delle complessive risorse assunzionali a cui lavoratori che hanno prestato servizio in area sanitaria, socio-sanitaria e amministrativa durante l'emergenza pandemica. Se i posti disponibili dovessero risultare inferiori al numero di personale che ha diritto alla stabilizzazione, gli enti e le aziende potranno chiedere una rimodulazione motivata dei piani trennali di fabbisogno e della relativa dotazione organica. L'assessorata ha disposto anche la sospensione delle procedure concorsuali già bandite o non ancora concluse con l'approvazione della gradutoria definitiva, così da consentire una rideterminazione del numero dei posti messi a concorso, tenendo anche conto i soggetti che hanno maturato i requisiti per la stabilizzazione. Lo stop non interessa però le procedure di reclutamento dell'area medica, utili a fronteggiare la cronica carenza di personale riscontrata al sistema sanitario. Il personale precario Covid, che ha maturato almeno sei mesi di servizio durante il periodo dell'emergenza e che però, a causa dei limiti di legge rimasto escluso dalle procedure di stabilizzazione, si vedrà riconosciuto un ponteggio premiale sino a un massimo di sette punti nei bandi di selezione. Una garanzia che dovrà essere prevista anche nell'ambito delle selezioni sospese e che saranno riavviate dopo la riapertura dei termini per l'adeguamento alla direttiva dell'assessorato. Fino alla definizione degli adempimenti previsti al protocollo, gli enti e le aziende hanno la facoltà di prorogare i contratti in essere sempre nei limiti di legge, se necessari per garantire il corretto ed efficiente esolgimento delle attività di gestione. Venerdì 28 aprile, la Cassazione demolisce il processo sulla trattativa Stato-mafia, assolti mori su branni dell'Utri. La minaccia fu solo tentata. L'amarezza di Fiammetta Borsellino, figlia del giudice Paolo Borsellino. Non nasconde la sua amarezza Fiammetta Borsellino, la figlia minore del giudice Paolo Borsellino, dopo che la Cassazione ha demolito le accuse e la presunta trattativa Stato-mafia, con i giudici alla sesta sezione che hanno confermato l'assoluzione per gli ex investigatori del ROS, per l'ex parlamentare Marcello Dell'Utri ha riconosciuto la prescrizione per il boss di Cosa Nostra, Leo Luca Bagarella, e per il medico Antonino Cinà, ritenuto vicino a Totorrina. Non ho letto la sentenza, quindi preferisco non entrare nel merito del processo trattativa, però una cosa la voglio dire. C'è chi ha costruito le loro carriere su questo processo immeritatamente. Sa quale è il danno più grande? Dice la Borsellino in un'intervista alla DN Cronos. Questo processo, come altri prima, sono stati celebrati fuori dalle aule di giustizia, prima ancora che si esaurissero nei tre gradi di giudizio, a prescindere dall'innocenza degli imputati. Fiammetta Borsellino se la prende senza mai citarli, con i magistrati dell'accusa che sono stati ospiti in numerose trasmissioni televisive. L'ho trovato un comportamento scorretto che fa male alla società tutta, dice. Assurdo che tutti conoscano un processo di questo tipo solo perché mediaticamente è stato pubblicizzato, mentre nessuno conosce processi come il Borsellino Quater. Io mi soffermo sul fatto che prima ancora che finisse l'iter giudiziario, aggiunge, sono stati pubblicizzati da chi li aveva in carico, ripeto, prima ancora della fine del processo. È un atteggiamento che ho sempre criticato. Poi è ovvio che la giustizia debba fare il suo corso, ma è deontologicamente scorretto fare un'operazione del genere. Ribadisco che su questo c'è chi ha costruito delle carriere sul nulla, su processi che poi si sono dimostrati dei fallimenti. Ne faccio una questione deontologica. Dopo le supposizioni arriva la conferma del passaggio di Caterina Chinnici in Forza Italia. Il Partito Democratico, dice l'europarlamentale, si è spostato troppo a sinistra per me. Conosco Elish Line da tanto e ne apprezzo l'autenticità dell'impegno, ma su alcuni temi abbiamo visioni diverse e inoltre il gruppo dei socialisti e democratici nel tempo si è spostato sempre più a sinistra. Troppo per me. Sono posizioni che mi mettono in difficoltà. Quando si parla di diritti e le coppie che vengono prima di quelli dei bambini, pur essendo io molto aperta, non posso condividere. Caterina Chinnici in un'intervista al Corriere della Sera conferma l'adesione a Forza Italia. Europarlamentare, figlia di Rocco, il magistrato che diede vita al pull antimafia e fu ucciso da Cosa Nostra nell'83. In quest'ultimo periodo, ma in generale, nel corso di questa legislatura, che ha visto cambiare profondamente il Parlamento, mi sono sentita sempre più a disagio, dice la Chinnici nell'intervista. Mi sono spesso trovata a condividere il mio lavoro e impegno con i colleghi del PPE, con cui ho anche ottimi rapporti personali, che non con quelli del mio gruppo. Io sono un tecnico, non un politico. Ho sempre lavorato e molto sui temi giuridici, sulla sicurezza e su queste tematiche. Ultimamente mi sentivo molto sola. Non sempre ho avuto il necessario sostegno. Fondamentale per il passaggio a Forza Italia è il rapporto con il ministro degli esteri Tajani. Con lui ci conosciamo e stimiamo reciprocamente dal 2014. La nostra collaborazione è andata via via consolidandosi nel momento in cui è diventato presidente al Parlamento europeo. È stato sempre un rapporto di grande collaborazione molto positivo. E sì, ultimamente abbiamo parlato. Sabato 29 aprile, quinta giornata di stazioni sicure. Ancora controlli straordinari della Polizia di Stato negli scali ferroviari. In Sicilia 642 persone controllate, tre indagati, 150 i bagagli ispezionati. continuano in tutta Italia i controlli straordinari della Polizia di Stato all'interno delle stazioni ferroviarie. Sono già cinque le giornate dedicate a stazioni sicure, l'ultima delle quali in Sicilia ha registrato controlli rivolti a 642 persone, tre indagati, otto sanzioni, 150 bagagli ispezionati, 72 agenti impegnati in 49 scali ferroviari dell'isola. Gli agenti e la Polfer della Sicilia, equipaggiati con metal detector e palmari e con il supporto delle unità cinofile della questura di Catania, hanno effettuato controlli nei maggiori scali ferroviari della regione, sui treni e in un deposito bagagli. La finalità dell'operazione svoltasi sotto il coordinamento della sala operativa della Polfer è incrementare il livello di sicurezza in ambito ferroviario. A Palermo un cittadino marocchino è stato denunciato per il furto in concorso di un cellulare all'interno di un esercizio commerciale della stazione e per l'inottemperanza al decreto di espulsione emesso dal questore di Siracusa nel giugno del 2022. Alla stazione di Agusta gli agenti e la Polfer di Catania hanno denunciato un uomo e una donna per l'oltraggio e resistenza pubblico ufficiale, calunnia e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, in quanto durante un controllo si sono rifiutati di fornire le proprie generalità. L'uomo per contrastare passivamente l'attività degli operatori si è posizionato sul binario dove era in arrivo un treno e gli agenti hanno notato il pericolo e lo hanno trascinato di peso fuori dai binari. L'uomo è stato denunciato anche per il reato di interruzione di pubblico servizio. Butterfly, il sopravvissuto, lo spettacolo di Francesco Benigno dedicato alla memoria degli uomini e delle donne caduti nelle stragi di mafia. Andrà in scena al Teatro Biondo di Palermo dal 3 al 7 maggio. Ormai siamo a pochi giorni dalla strage di Capaci e il suo spettacolo ha però dal biondo, uno spettacolo sicuramente antimafia e per la legalità. Eh sì, per la memoria anche dei sopravvissuti, purtroppo pochi, di quelle stragi che noi tutti ricordiamo, specialmente noi della nostra generazione. E ci ritorniamo a Palermo in un teatro importante, senza nulla togliere agli altri dove abbiamo già fatto la replica e siamo contenti Massimo perché anche le scuole, tu sai era il mio obiettivo fare vedere questo spettacolo ai giovani palermitani e ci sono le scuole interessate e faremo anche due matinee per i ragazzi perché si possa fare memoria, ricordare anche coloro che si sono rimasti vivi ma in realtà sono rimasti a quel giorno che li ha feriti nella mente, nel cuore, nell'anima e che patiscono ancora a distanza di 31 anni perché sarà il 31esimo anniversario tutti quei disagi, quelle difficoltà e quelle ansie che quel giorno gli ha lasciato. Io vi invito soprattutto a quelle persone che insomma invadono e riempiono le strade per l'anniversario delle stragi, di venire a vedere e conoscere la vita di quei pochi uomini che si sono salvati, tutto quello che era il loro progetto di vita. Siamo al Teatro Biondo, un luogo importante. Ci sarà un'emozione grandissima, infatti sin dalla prima lettura della sceneggiatura mi sono innamorato di questo spettacolo, lavoriamo su un testo che davvero dà molte possibilità e con Francesco alle spalle, con le sue indicazioni, penso che uscirà davvero qualcosa di buono. Penso che la cosa più bella del testo e quindi dello spettacolo sarà il contrasto fra il mio personaggio e quello di Lollo che è l'altro della scorta e questo è un contrasto dal quale lo spettacolo prenderà davvero vita. Sono stato piacevolmente coinvolto da Francesco a prendere parte allo spettacolo perché quando lessi la sceneggiatura noi ci siamo sentiti telefonicamente e io gli dissi Francesco ma perché non utilizzare, non far lavorare un attore palermitano? Io sai da Catania, no tu leggila e quando lessi la sceneggiatura il copione veramente ho avuto i brividi. Tanta interiorità in questo copione. Sì, appunto raccontiamo quello che molte persone sconoscono sconoscono perché tutti parliamo, tutti parlano per carità di Dio dei giudici, dei magistrati, degli uomini della scorta che hanno dato la loro vita, appunto hanno donato la loro vita allo Stato ma dimentichiamo facilmente chi è rimasto perché soffre veramente. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti